Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Scusate, speriamo che in questi 60 giorni non si abusi di questa norma che è un obbrobrio giuridico. Dopodiché, grazie a Teclata Edelli, al professor Cagliazzi... L'ultima cosa che vuole dire è che per i giovani non le abbiamo la libertà di ballare. Dopo il Covid le abbiamo anche la libertà di ballare. Ma ci mancherebbe altro. Ma nessuno l'ha mai pensato. Speriamo anche che si droghino meno, sinceramente. Ma ancora, solo le rave si trova. Allora, il sottogoverno...